Il tartufo c'è in mezzo a Europa, specialmente nei paesi dell'est, però non si possono chiamare tartufi, nemmeno patate. Il tartufo è pregiato, è caro, è raro, perché è caro. In questa zona qua venivo da bambino a sei anni con mio papà, perché sono della quinta generazione di trifulao. È 67 anni che vado per tartufi. Ho iniziato prima ad andare per tartufi che a scuola perché c'era la guerra, sono andato un anno in ritardo a scuola. Mio papà, questo è il tartufo gigante e quello che ho trovato io, il più grande è 510 grammi, io solo. Mio papà ha 1,3 kg e 80 grammi. Levando l'Italia, il tartufo è poca roba. Non ha gusto perché qui è la terra che lo produce, e il clima e la pianta. Per esempio noi abbiamo solo nella zona qui di Alba fino verso Mondovì e verso Asti, nella provincia di Asti. Questa zona qui è l'Immintrupa. L'unica maniera di produrre tartufo è, noi da vecchio, per esperienza, non per aver studiato, ma per esperienza, l'unica cosa è piantare tante piante dove nasce tartufo, non aspettare che la pianta smetta di dare tartufo, riprodurre le piante e poi sperare perché non è che non è che possano, il nero possono coltivarlo. Ecco perché il tartufo è molto caro, ecco perché costa, costa molti soldi, il perché, il perché non hanno, non hanno mai potuto, hanno già fatto, ci sono migliaia di gente che studia, i botanici sul tartufo, però non riescono a riprodurlo. Poi c'è da dire, c'è da dire che dopo, dopo il 60, 1960, a venire avanti il prodotto ha cominciato a scarseggiare. Perché? Perché, dato che, ve l'ho detto, il vino è molto buono, hanno tagliato le piante. E la, e la Gigi, te ponte, aspetta, aspetta Gigi, aspetta, pida, pida. Ma roba domani, piano, piano. A l'ho decided, come vedere più vero ma. È ormai, tanto, piano, 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 piano. liga, il nome è piante. Io adesso cerco, go Bronx. andon Gigi bravo, bravo Gigi bravo bravo Gigi bravo. bravo Gigi bravo Dietro il tartufo c'è tutta una vita di molte persone, dei cercatori, ma c'è anche tutta una vita di cani, di addestramento, di scuola, di pazienza, di anni, anni, anni di pazienza. E anche quel pezzettino che hai trovato? Ah, l'altro? Uh, chissà dov'è? E' un'altra bianca quella lì. Che bella, sta facendo un video eccezionale. Eh, ma ci vuole un bel tartufo grande. L'unica cosa, l'unico fortunato sono io che posso permettermi il tartufo. E' un'altra bianca quella lì. Grazie a tutti.